Grande cordoglio e commozione da parte dell'istituzione giostra del Saracino e del mondo della giostra per la scomparsa di Giancarlo Felici, mancato nella notte all'età di 81 anni. Storico rettore del quartiere di Porta del Foro, di cui era tuttora rettore onorario, Felici ha ricoperto la massima carica per il quartiere della Chimera dal 1990 al 2007, con la passione, la dedizione e lo spirito di innovazione che hanno sempre contraddistinto il suo operato, anche dopo la fine dei numerosi mandati da rettore. Una vita dedicata alla giostra del Saracino, commenta l'assessore Gianfrancesco Gamurrini, memoria storica e mente brillante, fucina di idee e progettualità. Giancarlo Felici è sempre stato in prima linea con innovazione e spirito critico, contribuendo ad arricchire la nostra manifestazione. Figura amata e rispettata dal suo quartiere così come da quelli avversari, autorevole guida per le nuove generazioni, Felici lascia un'eredità importante per tutto il mondo giostresco che perde un pezzo della sua storia.